Giulio, dopo tante tentative, finalmente questa vittoria, che sentimento? Sì, è una vittoria davvero importante per me, non me l'aspettavo sinceramente in questa tappa, però sapevo che volevo provarci, è una grande gioia e voglio godermi in questo momento adesso. Come è andata nel finale contro Ian Yves? Prima Cataldo, poi Ciccone, l'Apruzzo che comanda? È una grandissima emozione, quest'anno a dieci anni dal terremoto dell'Aquila penso che abbiamo fatto davvero tanto.